Noi siamo favorevoli a questa mozione, dato che anche a Roma abbiamo presentato un disegno di legge delega affinché si proceda in questa direzione, quindi sicuramente saremo favorevoli. Per l'ennesima volta però ho sentito in quest'aula un sacco di paroloni, sembra che quasi ne capiate, insomma a me ogni tanto preoccupa questa cosa, perché sentire parlare la lega di banche a me spaventa e me ne scuso con l'assessore visto che è qua, ma oggettivamente la Credi Euronord, già soltanto nominare questo nome a me mette i brividi, quindi mi spiace che il consigliere Colla non sia qua. Ah, è sia qua, pardon, scusi non la vedo, è di spalle. Quindi questa è una premessa, i derivati nelle istituzioni ha aiutato anche la lega nord, il PD, il PDL a fare questi tipi di operazioni, anche la regione Lombardia sappiamo tutti che ha fatto dei bond e ha fatto un'emissione di importanti cifre, quindi tutto questo sistema è stato alimentato negli anni, tutto questo sistema dei derivati è stato aumentato negli anni e noi l'abbiamo subito, noi cittadini, invece chi era nelle istituzioni probabilmente, evidentemente ha permesso che tutto questo avvenisse. Ricordo, ho sentito parlare di nazionalizzazione delle banche, noi su un tema siamo molto sensibili, come quella, come la banca tanto cara al PD, che insomma ha dimostrato che anche loro con le banche qualche difficoltà la hanno, evidentemente. Mi piace ricordare però l'ultimo fallimento della credito Euronord, chi l'ha pagato, visto che il consigliere Colla giustamente ha fatto un intervento molto interessante, ricordiamo che i militanti della Lega hanno, e i militanti della Lega e i risparmiatori hanno pagato il punto. Fagni si rivolga alla Presidenza, il consigliere della Lega non facciano polemiche, grazie. Presidente, lei è sempre della Lega, quindi per me è uguale parlare con lei o con un altro, insomma, hanno pagato comunque i cittadini, quindi noi voteremo favorevolmente a questo provvedimento, ci auguriamo che però a furia di fare emozioni sul tema, parlare di soluzione europea, fare disegni di legge a Roma, qualcosa si muova, perché se no continuiamo a cantarcela e suonarcela, ma qua non cambia mai nulla. Grazie.